Lo scioglimento della seduta consigliare per mancanza del numero legale ha incontrato il disappunto totale della minoranza che in una conferenza stampa indetta ad ORAS ha rimarcato il proprio dissenso sulla mancata tenuta dei lavori consigliari che prevedevano punti importanti all'ordine del giorno come la discussione della legge sull'autonomia differenziata. Ai nostri microfoni il consigliere Marrese a nome di tutti i consiglieri della minoranza spiega le ragioni della loro contrarietà e pone l'accento sui tanti problemi insoluti della comunità lucana a partire dalla sanità e dall'agricoltura. Ci aspettavamo l'intera maggioranza del Consiglio per poter discutere innanzitutto conoscere la nuova giunta che ad oggi ad inizio del Consiglio ancora nessuno di noi conosce e quindi si deduce che c'è un disorientamento sicuramente una difficoltà da parte del governo della maggioranza a poter individuare e far conoscere il componente dell'aggiunta in un momento in cui i cittadini chiedono la risoluzione dei problemi proprio oggi hanno manifestato gli agricoltori sotto il palazzo della regione e quindi la minoranza invece era presente in Consiglio e prendiamo atto anche del cambio di passo da parte del nuovo Presidente del Consiglio regionale nel dare anche più forza al Consiglio rispettando le regole quindi anche la puntualità e l'orario per noi importante quindi più rispetto per i consiglieri. L'altro punto all'ora del giorno per noi importante molto importante era l'autonomia differenziata ad oggi prendiamo atto anche della mancata discussione. Nel frattempo il Consiglio regionale della campagna si è già espresso in materia, già deliberato e in base all'articolo 75 della Costituzione è necessario che tutti i consigli regionali che vorranno chiedere l'abrogazione della norma si esprimano sullo stesso testo e quindi facciano la stessa delibera. Di conseguenza chiederemo, abbiamo già anticipato al Presidente Pittella, di chiedere una convocazione del capogruppo per poter discutere e programmare insieme i lavori e provare ad arrivare ad un'approvazione speriamo unanime dove la maggioranza pure si unisca alla proposta della minoranza per difendere l'interesse dei Lucani e quindi dire no all'autonomia differenziata in modo serio e tutelare realmente la Basilicata.